Sei bloccato? E se Dio avesse in serbo per te benedizioni ancora maggiori? Anche in mezzo ai dubbi che ti lacerano, alle paure che ti immobilizzano e al tuo non riesco nemmeno a credere per 24 ore di fila che Dio voglia usare me, sappi che non sei il solo a dover fare i conti con questo genere di pensieri. Dubbi, paure, distrazioni e abitudini ci ostacolano sempre. Ecco perché questa settimana li elimineremo insieme. Ti dico, fai spazio al di più che Dio ha preparato per te. Te lo ripeto, fai spazio al di più che Dio ha preparato per te. Sai qual è la colla più forte del mondo? L'abitudine. Niente, è in grado di legarci a qualcosa come riesce a fare l'abitudine. Ci porta a non cambiare nulla della nostra vita perché la sentiamo come parte di noi anche se non è mai stata pensata per diventare parte di noi. e spesso paghiamo un prezzo elevato di cui non sempre ci rendiamo conto. Mi piacerebbe cambiare qualcosa nella mia vita. Ti è capitato di avere questo pensiero di recente? Io mi ritrovo spesso a pensare cosa posso cambiare per non fare della mia attuale insoddisfazione un'abitudine. Questo vale per tutti gli ambiti della nostra vita. Facciamo un esempio molto semplice. Hai fatto vari sgarri e quindi sei ingrassato e oggi sei insoddisfatto del tuo corpo. Puoi lamentarti quanto vuoi dicendo cavolo non sono felice ma questo da solo non cambierà nulla. È solo quando prenderai la decisione consapevole di porvi rimedio che creerai l'opportunità per perdere peso. Sono sicura di non dovertelo spiegare. Nel momento in cui realmente ti attiverai per porre fine al tuo circolo vizioso solo allora ti sentirai più leggero, soddisfatto e felice. Se continuiamo a mangiare ciò che ci piace per abitudine a un certo punto accetteremo anche di essere insoddisfatti del nostro corpo per abitudine, il che è pericoloso. Posso chiederti cosa per abitudine continui a mangiare e non parlo solo di cibo, anche se non ti fa bene. In quale abitudine sei intrappolato? A volte dimentichiamo che non siamo più intrappolati. Nella scrittura leggiamo se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove, seconda Corinzi 5.17 Oggi è un giorno meraviglioso per dire addio all'insoddisfazione abbandonando una tua cattiva abitudine e prendendo una decisione consapevole. Pregherò che Dio ti dia la forza di fare questo passo importante. Dì addio alla tua vecchia abitudine oggi e sperimenta una nuova soddisfazione. Grazie di esistere, Deborah.